Salve, sono Marcella Giulia Lorenzi, sono la comunicatrice della scienza. E' molto importante al giorno d'oggi comunicare la scienza al grande pubblico e creare proprio un ponte tra scienza e società, anche se ciò non è molto facile perché in realtà in modo particolare la scienza di oggi si occupa di tematiche che sono molto lontane dalle situazioni quotidiane, per cui il nostro ausilio alle volte possono arrivare dei computer, delle visualizzazioni e noi utilizziamo anche un nuovo modo di comunicare la scienza che usa il linguaggio delle emozioni, quindi l'arte. Attraverso l'arte, le metafore, le installazioni, riusciamo a comunicare al grande pubblico delle impressioni, delle emozioni che danno un'idea, danno un insight di quella che può essere quella teoria. E in questo modo lo spettatore, lasciando da parte il suo giudizio e mettendosi completamente in gioco, riesce finalmente a penetrare questi misteri che stanno nell'universo. E' quello che ha cercato di fare anche Edoardo Erba con il suo spettacolo bellissimo, ispirato alla teoria della relatività di Einstein. Vi aspettiamo numerosi per vederlo e insieme ci saranno anche le conferenze che cercheranno poi di spiegare anche la scienza e ciò che studia. And then you're strolling with the one girl, sigh and sigh after sigh. Nice work if you can get it. It's fine work. And you can get it if you try. I got connections too. Just imagine someone...